Caterina Balivo ha parlato della crisi di coppia con suo marito Guido Maria Brera Ma cosa è successo fra loro? Lo scorso anno abbiamo parlato di una crisi di coppia fra Caterina Balivo e suo marito Guido Maria Brera Oggi la conduttrice ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera e ha toccato anche la sua sfera privata Cosa ha detto? Leggi anche, Fedez e Achille Lauro litigio, perché hanno litigato? Cosa è successo davvero? Ecco tutta la verità Caterina Balivo parla della crisi con il marito Guido Maria Brera Caterina Balivo ha iniziato la sua intervista per il Corriere parlando del suo nuovo programma, Chi vuole sposare mia mamma? Poi, la conduttrice ha parlato della crisi con il marito Guido Maria Brera, avvenuta durante il lockdown Le parole sui figli Caterina Balivo ha spiegato che di suo marito Guido Maria ama il distacco Perché? Ecco le sue parole, la conduttrice, infine, ha detto di aver conosciuto il tradimento, seguici su Instagram cliccando qui E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video